Come vedete al centro ci sono i due liberi che vanno in ausilio eventuale. Luca Scowal è il libero della White Company. Wow, un gribal di giù. White Company è 5-4 al momento. Sta tentando di buttarlo giù, basta mettere giù il ginocchio. Sta tentando in tutti i modi di rimanere in piedi. Non molla, non molla. Non molla, non molla. Aia, 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 aia. Giù. È 5-2. È 4-2 per i White Company della Gran Bretagna. Va giù il ginocchio. Stop! Fine. Fine. Bene, sennò. Sennò, ciò è stato vincito in piccolo. Allora, allora. Aia, allora, ho vincito nelle zone. E ai riuscato ai cibi? Non ho fatto bene. Grazie a tutti